Una donna spagnola ha donato un rene ad un paziente italiano di Padova, mentre la moglie di quest'ultimo, immunologicamente incompatibile con suo marito, ha restituito l'organo donandolo al figlio della prima donatrice in attesa di trapianto. Una vicenda raccontata a Roma durante gli stati generali della rete trapiantologica nazionale. La donazione incrociata risale al 22 ottobre ed è stata realizzata grazie ad un accordo di cooperazione tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo per la gestione dei trapianti. Entrambi i pazienti e i loro rispettivi donatori sono già tornati a casa. Quello eseguito tra Padova e Barcellona è il secondo trapianto di rene incrociato, Italia-Spagna. Il primo però è venuto in simultanea utilizzando un volo di linea. Il rene del donatore spagnolo infatti è arrivato all'aeroporto di Venezia dove gli operatori del 118 di Padova hanno preso in consegna l'organo e hanno affidato all'equipaggio il rene del donatore italiano che è decollato mezz'ora dopo alla volta di Barcellona. Una vicenda che dimostra l'efficienza e l'eccellenza della sanità padovana. Nelle scorse ore infatti la sanità della regione Veneto è stata scelta dal Ministero della Salute che ha proposto uno specifico accordo di programma per collaborare alla riorganizzazione dell'attività chirurgica del sistema sanitario della regione Calabria. L'accordo ha come sottoscrittore il Ministero, la regione Veneto e l'azienda ospedaliera di Padova che sarà proprio il soggetto attuatore e riceverà esclusivamente un rimborso spese fino ad un massimo di 200.000 euro. Il lavoro avrà durata di 18 mesi, prologabili per altri 6. Abbiamo sempre detto, commenta il Presidente del Veneto Luca Zaia, che le nostre buone pratiche sono a disposizione del Paese. L'impegno è di fare il meglio per il futuro della sanità della regione Calabria e i suoi cittadini. Non a caso, conclude Zaia, il partner operativo sarà l'azienda ospedaliera di Padova, uno dei nostri fiori all'occhiello.